Tirocini informativi, frattura tace su Isernia. Il governatore ha annunciato lo stanziamento di altri 500 mila euro per gli over 30, ma nessun commento sull'esclusione della provincia isernina dai benefici. Incidente sulla Venafrana, muore un uomo di 60 anni. La vittima era su uno scooter e si è scontrato con un trattore Remo Durante di Venafro e deceduto sul colpo sotto shock l'autista del mezzo agricolo. Condannato per abusi, l'ex parroco di Porto Cannone, sei anni di reclusione a Don Marino Genova, accusato di aver molestato una ragazzina all'epoca dei fatti, la vittima aveva 13 anni. Ricordata a Fornelli la strage nazista in paese, organizzata una cerimonia per commemorare i caduti, 74 anni fa l'eccidio dei tedeschi che durante la ritirata lasciarono i martiri sul campo. Campobasso a Cerignola ritrova l'ex Farina, oggi in campo per la Coppa Italia, si gioca alle 15 in gara secca, chi vince accede ai sedicesimi in campionato nel derby di Agnone, indetta la giornata Granata. Buon pomeriggio a tutti voi, un saluto dalla redazione di Telemolise, continuiamo a parlare in apertura dei tirocini formativi, la notizia dell'esclusione di Isernia ha provocato l'immediata reazione della classe politica della provincia. 191 a Campobasso, 0 a Isernia, il governatore Frattura ha annunciato di aver stanziato altri fondi, poco più di mezzo milione, ma continua a tacere proprio sull'esclusione di Isernia. Enzo Di Gaetano. La notizia dell'esclusione dei disoccupati della provincia di Isernia dai benefici per i bandi dei tirocini over 30 ha provocato un mezzo terremoto sia alla regione che alla provincia, entrambe responsabili del funzionamento del centro per l'impiego isernino. Ma andiamo con ordine ribadendo che le 191 domande accolte provengono tutte dalla provincia di Campobasso e che neanche una domanda della provincia di Isernia è stata accolta. Ieri sera Frattura e il suo assessore veneziale hanno comunicato che saranno stanziati altri 564 mila euro per le domande non accolte nella prima fase, ovvero sarà rifinanziato il bando over 30. Neanche una parola però sulle 26 domande pervenute al centro per l'impiego di Isernia e finite nel limbo, o sarebbe meglio dire nel dimenticatoio. Pur se presentate regolarmente dai disoccupati over 30 isernini entro il 31 agosto allo sportello di Via Berta, sono state trasmesse alla regione sul sistema informatico MOSEM solo il 4 settembre. Dal centro per l'impiego e dai soggetti accreditati di Campobasso, invece, il 1 settembre, erano state trasmesse ben 357 domande, di cui 191 accolte. Le accolte sono quelle trasmesse dalle 8 alle 8 e 10 del 1 settembre. In sostanza Isernia è rimasta fuori dalla prima fase perché le domande sono state trasmesse solo il 4 settembre, ma resterà fuori anche dalla seconda fase perché, tecnicamente, le 26 domande di Isernia sono comunque arrivate dopo le 166 escluse di Campobasso. Una beffa resa ancora più perfida dalla dichiarazione di Frattura, lì dove il governatore dice che tutti gli enti pubblici e privati erano stati istruiti sul funzionamento del sistema MOSEM. In sostanza Frattura dice che il centro per l'impiego di Isernia sapeva benissimo che si sarebbe trattato di una corsa contro il tempo, scattata il 1 settembre alle 8 e finita solo 10 minuti dopo, senza alcuna protezione o barriera territoriale. Una corsa vinta da enti privati e centro per l'impiego di Campobasso che hanno dimostrato in dubbio a professionalità e preparazione. In conclusione, i disoccupati isernini pagano per colpe non loro. Filomena Calenda accusa direttamente il centro per l'impiego di Isernia che si difenderebbe parlando di difficoltà ad accedere al sistema MOSEM, tanto da aver richiesto l'assistenza di Molise Dati. Assistenza che non ha prodotto un gran risultato visto che le domande sono state trasmesse da Isernia solo il 4 settembre. Di chi la colpa? Della Regione, che non ha assistito tecnicamente il centro per l'impiego di Isernia, come tutto farebbe pensare? O dello stesso centro per l'impiego di Isernia che ha sottovalutato la questione danneggiando irreparabilmente 26 famiglie di disoccupati isernini? Frattura ha risposto dicendo che tutti sapevano tutto. Ma dov'è la verità? Perché Lorenzo Coia ancora non dice una parola eppure il centro per l'impiego funziona nello stabile della provincia di Isernia ed è diretto da funzionari della provincia di Isernia? Sarebbe opportuno che qualcuno in via aberta faccia sapere cosa è successo. Sull'area di crisi interviene anche Sergio Sorella. Il sindacalista denuncia l'esclusione dell'università e del mondo dell'istruzione più in generale. Si rischia di polverizzare gli interventi, dice. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Sull'area di crisi sono riposte le ultime flebili speranze per tentare di salvare il Molise da una lenta agonia che lo sta conducendo dritto verso morte sicura. Uno strumento che mette a disposizione complessivamente 45,58 milioni di euro, di cui 15 stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico e il resto dalla Regione. Tra i sindacati tuttavia restano i dubbi, il timore che l'intera operazione non possa portare i benefici sperati perché condotta in maniera disarticolata e confusa con l'esclusione di settori nevralgici per lo sviluppo sociale ed economico della Regione. È il caso del sistema dell'istruzione tecnica superiore e di quello universitario completamente assenti nei progetti che riguardano i finanziamenti per l'area di crisi. A denunciarlo è Sergio Sorella con un passato nella CGL Scuola ed attuale presidente dell'associazione Proteo Fare Sapere, secondo il quale si tratta di settori che avrebbero potuto giocare un ruolo importante per affrontare in maniera adeguata i temi che riguardano in particolare la formazione del personale e la riconversione di quanti sono stati espulsi dal sistema produttivo. In verità, ha spiegato Sorella, nell'intesa tra le parti sociali sottoscritte nel lontano agosto del 2014 si chiedevano 200 milioni di euro per la rinascita del Molise. Sono passati oltre tre anni, ha ricordato, e ne avremo, se tutto andrà bene, appena 15 dal Ministero e riguarderanno 67 comuni. Il rischio evidente di questa operazione sarà quello di una polverizzazione degli interventi che non produrranno effetti significativi per la nostra regione, ha concluso Sorella, e si perderà un'altra occasione per tentare di arrestarne il declino sociale, demografico e produttivo. Il diritto dei cittadini a una informazione pluralista, il sostegno economico all'editoria, come prevede la legge regionale, il più ampio accesso ai fondi europei, la ricerca di misure a salvaguardia dei posti di lavoro. Sono gli argomenti affrontati a Campobasso per esaminare i problemi dell'editoria locale. all'incontro presieduto dal prefetto Maria Guia Federico hanno partecipato il senatore Roberto Ruta, la parlamentare Laura Venitelli, il prefetto di Isernia, Fernando Guida, il presidente della Regione Frattura, quello del Consiglio Cotugno e per l'Associazione della Stampa il presidente Di Pietro e il vice Mancinone. L'amministrazione regionale ha comunicato la volontà di procedere all'erogazione dei contributi agli editori locali sulla base della graduatoria che il Corecom a breve sottoporrà all'approvazione della giunta. La cronaca ora è costata la vita ad un uomo di 60 anni lo scontro con un trattore avvenuto sulla strada di Bonifica Venafrana per Remo Durante e non c'è stato nulla da fare e l'uomo è deceduto sul colpo. Tragico incidente portale sulla strada di Bonifica di Venafro a perdere la vita il 60enne Remo Durante di Venafro che era alla guida del proprio scooter un'Aprilia Scarabeo schiantatosi contro un trattore in località Santa Cristina. Lo sfortunato 60enne venafrano era mogliato con figli e operai in una delle fabbriche del nucleo di Pozzilli e magari stava guidando il proprio scooterone viaggiando in direzione di Venafro probabilmente stava tornando a casa dopo aver finito il suo turno di lavoro. Lo scooter di Durante per causa in corso di accertamento si è scontrato con un mezzo agricolo in procinto di immettersi sulla provinciale. L'impatto è stato tremendo e purtroppo per lo scooterista non c'è stato nulla da fare è infatti deceduto sul colpo. Tantissima l'emozione tra la gente che vive e lavora nei pressi del luogo del tragico sinistro e tra quanti sono subito accorsi data la notorietà del deceduto persona assai conosciuta e apprezzata nel Venafrano. Sul luogo del tragico sinistro si sono subito portati i carabinieri della compagnia di Venafro per gli accertamenti di rito con il 118 e il magistrato di turno. Il conducente del trattore il leso è stato comunque trasportato al Santissimo Rosario in stato di sciocco. Saranno i risultati dell'autopsia eseguita all'obitorio di Termoli a chiarire le cause della morte di un'anziana di 68 anni originaria di Napoli ma residente a Guglionesi deceduta lo scorso mese di settembre al Santimoteo dopo un intervento al femore nel reparto di ortopedia dell'ospedale l'anatomo patologo arrivato da Foggia nominato dalla procura di Larino ha effettuato gli accertamenti sul cadavere i figli con un esposto alle forze dell'ordine avevano chiesto di conoscere le motivazioni del decesso della donna di 68 anni. Una vicenda che ha fatto molto discutere uscita anche dai confini regionali quella che ha avuto per protagonista l'ex parroco di Guglionesi accusato di abusi sessuali su una ragazzina all'epoca dei fatti di 13 anni la vicenda si è conclusa davanti al tribunale di Larino il sacerdote è stato condannato a 6 anni di reclusione Emanuela Iorio 6 anni di reclusione per atti sessuali su un minore il verdetto di colpevolezza su Don Marino Genova ex parroco di Porto Cannone accusato di aver abusato di Giada Vitale quando era solo una ragazzina è arrivato dopo un lungo processo e due camere di consiglio lacrime sorrisi abbracci con le donne dell'associazione vittime di violenza dell'Aquila arrivate apposta per seguire l'ultima udienza così Giada ha accolto il verdetto nei corridoi del primo piano del tribunale di Larino travolta da una grande emozione una sentenza liberatoria che non restituisce già da quell'adolescenza violata ma che rappresenta forse anche un riscatto da quella comunità a Porto Cannone che fin dall'inizio si era sempre schierata con il parroco e non con la vittima di quegli orribili abusi spesso consumati nella sagrestia finalmente è stata fatta giustizia e quattro anni di tensione quindi di di frustrazione sulle mie spalle quindi ora finalmente è finita Giada oggi ha 22 anni ma all'epoca dei fatti ne aveva 13 gli abusi sono andati avanti fino ai 17 anni quando finalmente Giada ha trovato il coraggio di confidarsi e denunciare Don Marino il filone relativo agli atti sessuali tra i 14 e 17 anni era stato archiviato perché secondo la legge italiana superati i 14 anni subentra il consenso della vittima una fase del processo quest'ultima che aveva colpito profondamente Giada spingendola quasi a non credere più nella giustizia poi però il processo è andato avanti e Don Marino è stato processato e condannato per i mesi in cui si sono consumate le violenze in cui Giada aveva ancora 13 anni il sacerdote non era in aula al momento della sentenza il suo avvocato Ciro Entino ha sollevato un problema di improcedibilità e ha chiesto la soluzione ma il giudice russo ha colto in pieno la tesi del PM Laria Toncini condannandolo a sei anni soddisfatto il difensore Giuseppe Durbano una vicenda una vicenda una vicenda processuale complessa che ha con soddisfazione posso dire che ha condotto a questa forma di giustizia nei confronti della vittima e dopo il verdetto la diocesi di Termoli Larino ha fatto sapere di rispettare la sentenza ricordando che il vescovo Gianfranco De Luca all'epoca della denuncia dopo una prima verifica dei fatti considerati veritieri aveva allontanato il sacerdote da Porto Cannone e avviato le procedure per il processo canonico che si è concluso con la sospensione a Divinis di Don Marino nella nota viene anche precisato che per la legge della Chiesa la minore età è quella inferiore ai 18 anni senza distinzione di periodi antecedenti o successive ai 14 anni così come prevede invece l'ordinamento penale italiano ora torniamo indietro di 74 anni fa per un delitto tremendo per il quale non ci sono stati colpevoli e nessuno ha pagato a Fornelli è stata ricordata la strage dei nazisti Sergio Di Vincenzo per alcuni studiosi è uno dei primi episodi della resistenza italiana quella bomba a mano lanciata da un giovane di Fornelli che ferì e uccise dei soldati tedeschi fu un vero e proprio atto di ribellione soprusi alle razzie messe in atto dall'esercito nazista ma il prezzo da pagare fu altissimo il podestà Giuseppe Laurelli e i suoi concittadini Giuseppe Castaldi Vincenzo Castaldi Celestino Lancellotta Domenico Lancellotta e Michele Petrarca furono uccisi per rappresaglia nella frazione Castello dove anche oggi è stata celebrata una messa in ricordo della strage del 4 ottobre del 1943 furono condannati alla morte con impiccagione tenero i corpi di sei cittadini tra cui il podestà appesi alla corta per circa una settimana dopodiché una donna riuscì a far fuori la sorveglianza e i corpi furono finalmente tumulati nel cimitero Prima della messa in paese sono state deposte delle corone di alloro ai piedi del monumento ai caduti e della lapide dedicata al podestà intanto l'amministrazione comunale di Fornelli sta lavorando ad altri progetti destinati a rendere sempre più nitido il ricordo della tragedia grazie anche alla recente donazione di alcune opere d'arte ispirate dall'Eccidio si sta pensando all'apertura di un museo con la donazione da parte della vedova Pettinicchi e del figlio Paolo ai quali vanno ringraziamenti di tutta la comunità fornellese per questo grande gesto si avvia l'iter verso quello che è un progetto ambizioso la realizzazione di un museo della memoria nel quale sia attraverso le opere del maestro sia attraverso altre forme vogliamo far rivivere vogliamo raccontare questo pezzo di storia della nostra comunità tutelare i prodotti della mozzarella di bufala contro le modifiche al disciplinare introdotte di recente che consentirebbero anche di surgelare il prodotto snaturandone di fatto le caratteristiche in Consiglio regionale è stato approvato un ordine del giorno mozzarella di bufala Dopp passa all'unanimità in Consiglio regionale l'ordine del giorno presentato dal presidente dell'Assemblea Vincenzo Cotugno a tutela delle tradizioni e della genuinità della mozzarella di bufala campana Dopp prodotta in Molise nel Venafrano un provvedimento ha commentato Cotugno che va a sostegno degli allevatori di bufale e dell'intera filiera agricola contro le recenti modifiche al disciplinare presentate dal Consorzio di tutela al Ministero dell'Agricoltura che rischiano di minare la qualità dell'intero prodotto a maggio scorso l'Assemblea del Consorzio per la tutela della mozzarella di bufala campana Dopp ha deliberato una nuova proposta di modifica al disciplinare con queste modifiche si vorrebbero introdurre il congelamento della mozzarella l'utilizzo del vapore per la cagliata e la realizzazione dei cosiddetti filoni da un chilo in questo modo sarebbero a rischio le caratteristiche di formaggio fresco con un impoverimento della qualità del prodotto una proposta dicono i produttori delle regioni di provenienza della bufala che è stata già trasmessa al Ministero delle politiche agricole per l'approvazione e la ratifica delle modifiche del disciplinare ma che non rispetta le proprietà e la storia di questo antichissimo prodotto del mezzogiorno che identifica proprio la Campania il Basso Lazio la Puglia e la zona di Venafro la mozzarella di bufala insomma è considerata ormai un bene immateriale di proprietà dello Stato con l'ordine del giorno approvato in Consiglio regionale ha dichiarato Cotugno abbiamo tutelato i prodotti della zona del Venafrano e i consumatori di questa eccellenza casearia e nei prossimi giorni verrà chiesto di avere almeno un componente molisano nel consorzio di tutela della mozzarella che comprende le regioni Campania Lazio Puglia e Molise da anni produttori delle eccellenze gastronomiche del Molise Ventricina Pampanella Tartufo Cacio Cavallo e mozzarella di bufala solo per citarne alcune chiedono il riconoscimento del marchio e una politica di tutela da parte delle istituzioni finora i risultati sono più stosto scarsi e l'immagine culinaria del Molise resta affidata solo al coraggio e alla tenacia di tanti tantissimi piccoli produttori che non vogliono arrendersi intanto l'assessore regionale alle politiche agricole Facciolla ha convocato un incontro con le associazioni di categoria per decidere cosa fare sul ritardo di AGEA nei pagamenti delle aziende agricole molisane l'incontro in programma lunedì alle 15.30 nella sede dell'assessorato e a Boiano immagini spettacolari di una tradizione millenaria quella della transumanza sul tratturo più di 500 pecore Valeria Farina percorrere le antiche strade del tratturo immergersi nella natura e rivivere quel passato che ha fatto la storia e la cultura del Molise un greggio di oltre 500 pecore è partito dalla Gallinola di San Massimo ed è arrivato all'altiglia di Sepino un percorso lungo un tracciato di circa 22 km intatto e autentico che ha regalato la suggestione dei tempi antichi promotore del movimento è stato il pastore Antonio Innamorato originario di Rocca Mandolfi Innamorato discende da una famiglia di pastori e ripete l'antico rito della transumanza delle pecore per mantenere vivo ciò che è patrimonio umano e culturale della terra dei Saniti l'iniziativa durata due giorni ha fatto tappa a Civita di Boiano a San Polo Matese fino ad arrivare al sito archeologico di Sepino l'evento è stato patrocinato dalla sovrintendenza dai comuni di Boiano San Polo Campochiaro e Guardia Reggia e dal BioCult il centro di ricerca dell'Università del Molise nato per valorizzare le risorse bioculturali e lo sviluppo del territorio presenti nella zona di Rio Freddo a Boiano anche la FIDAPA il club alpino italiano l'associazione Falco e Matese Arcobaleno alcuni studenti dell'istituto comprensivo a Matuzio Pallotta la storia e la tradizione rivivono i piedi del Matese per far luce ancora una volta sul passato e sui riti del Molise millenario nuovo comandante dei carabinieri a Isernia come da consuetudine ha incontrato subito i giornalisti per fissare gli obiettivi del suo mandato sentiamo Sergio Di Vincenzo 52 anni originario di Napoli il nuovo comandante provinciale di Sernia Gennaro Ventriglia proviene dalla legione carabinieri Abruzzo e Molise di Chieti ha maturato importanti esperienze in diverse regioni italiane Sardegna Puglia Lombardia Veneto ed Emilia Romagna ora il ritorno in Molise il suo primo incarico lo ebbe infatti negli anni 90 alla scuola allievi carabinieri di Campobasso A Isernia il tenente colonnello intende dare continuità ai risultati del suo predecessore Marco Cucquini mettendo in atto tutte quelle azioni che permettono di diffondere una sensazione di sicurezza percepita e reale All'obiettivo che ci siamo prefissi nel comando provinciale di Isernia è quello di continuare sulla linea fino adesso intrapresa dall'arma in collaborazione con le altre forze dell'ordine e con la magistratura e con le autorità di governo Secondo il tenente colonnello Ventriglia per continuare a garantire il livello di tranquillità sociale che c'è a Isernia e negli altri centri della provincia che a breve visiterà è fondamentale rafforzare il ruolo delle caserme e mettere sempre al primo posto la prevenzione Assicurare il livello di tranquillità sociale che già c'è qui a Isernia ripeto collaborando sempre con le altre forze dell'ordine e concretizzando quelli che sono gli sforzi che quotidianamente i comandi di stazione e i comandi di compagnia del comando provinciale di Isernia svolgono nel territorio della provincia L'attività preventiva ritengo che sia preeminente per poter poi individuare quelli che possono essere focolai da interessare e attenzionare con i reparti investigativi quindi è un'azione che viene svolta da tutta l'arma sia dalle componenti delle stazioni che del nucleo investigativo delle aliquote operative delle compagnie In provincia di Isernia ciò che destra maggiore preoccupazione sono le infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ma da questo punto di vista forte delle risposte già date a livello investigativo e giudiziario il comandante Ventriglia è apparso abbastanza tranquillo e pronto a raccogliere anche questa sfida Adesso parliamo di un evento che si è svolto oggi a Campobasso è stato presentato un lavoro di una giornalista Rai si è parlato anche dei matrimoni siriani ce ne parla Cristina Niro Un matrimonio benefico dall'ideazione alla sua celebrazione festeggiando con aiuti concreti e ore di svago per tanti piccoli profughi siriani per lo più orfani così Laura Tangherlini la nota giornalista di Rai News 24 ha deciso di organizzare e festeggiare il suo matrimonio ne è nato anche un libro il matrimonio siriano che questa mattina è stato presentato al liceo scientifico di Campobasso in occasione del primo evento promosso dal comitato nato in onore del caporal maggiore scelto Alessandro Di Lizio mi sono sposata un anno fa ho pensato dunque di organizzare tutto il mio matrimonio affinché fosse benefico per queste persone per cui le fasi organizzative e le fasi successive al matrimonio come regale di notte sono stati destinati proprio ad aiutare i profughi da lì sono nati due viaggi in Libano ed in Turchia al confine siriano in parte da sola e in parte poi mi ha raggiunto mio marito dove siamo andati a conoscere personalmente questi bambini che abbiamo voluto aiutare con il nostro matrimonio e abbiamo portato loro giacconi invernali materiale di cancelleria giocattoli sono circa 200 orfani e in più abbiamo voluto regalare loro questi due giorni di festa con due ricevimenti di nozze diciamo siamo andati vestiti da sposi e abbiamo festeggiato con loro e questa era un po' la scusa per fare un nuovo libro l'espediente diciamo letterario più nuovo rispetto agli altri due ma di fondo l'intento è lo stesso appunto far sentire la loro voce che in questi sette anni di conflitto è stata ignorata o mistificata o insomma non ha avuto l'eco che meritava secondo me Dora Pinelli la mamma di Alessandro ha aperto i lavori parlando alla platea formata da giovanissimi dell'importanza della pace molte volte si parla di pace probabilmente si pensa solo alla pace al momento in cui i nostri eserciti vanno avanti si parla di la cultura della pace non è solo quella cioè non è solo il momento in cui si depongono le armi ma è proprio la cultura cioè vivere riuscire a vivere tra di noi perché noi molte volte abbiamo non abbiamo la pace proprio tra di noi e questa è una cosa molto importante che bisogna essere si bisogna inculcare nei ragazzi perché oggi come oggi devo dire che abbiamo dei ragazzi che vanno un po' lo sbando quindi una cosa molto importante è proprio quella riuscire a indire a questi ragazzi tramite le scuole tramite le varie cose ecco tramite i libri tramite il comitato qualsiasi riuscire a portarli avanti a insegnarli la parola pace che non ripeto come dicevo prima non si intende solo la deposizione delle armi presente anche Daniela Lombardi giornalista inviata di guerra che su Alessandro Delisio ha scritto un libro e che della pace ha parlato come diritto inviolabile sancito dall'ONU cultura della pace significa prima di tutto comprendere che la pace è un vero e proprio diritto quindi non è un qualcosa che viene elargito come favore o come concessione quindi come diritto sancito anche a livello istituzionale anche dall'ONU che ne ha fatto una vera e propria dichiarazione dichiarazione dei diritti dei popoli alla pace va rivendicato nella maniera in cui si rivendica ogni tipo di di diritto in molti paesi in difficoltà questo viene viene fatto spesso l'iniziativa è individuale spesso le persone rischiano anche molto per appunto per rivendicare questo loro diritto alla pace vi ricordo l'appuntamento di stasera con Milibar in onda alle 21 si parlerà di cibo e salute della corretta alimentazione dei corretti stili di vita ospiti in studio di Pasquale Di Bello con l'opinionista Antonio D'Ambrosio saranno il dietista e nutrizionista Marco Callegaro e il diabetologo Marco Tagliaferri è tutto per questa edizione vi lascio alle previsioni del tempo tra poco più di mezz'ora ci sono gli aggiornamenti grazie per averci seguito e buon pomeriggio Grazie a tutti